Salve a tutti, sono Martin Lazzarovo, ho 28 anni e sono lo chef del Principe di Belludia, un ristorante che si trova all'interno del San Corrado di Noto, un rilasciato 5 stelle lusso che troviamo in Sicilia. Il piatto da me realizzato prende il nome di Fisis. La parola Fisis si traduce letteralmente con la parola Natura. Allora, ho concentrato la mia creatività e il mio studio per questo progetto per poter seguire letteralmente le vostre linee in guida, ovvero zero spreco, nessun tipo di conservanti additivi, ma soprattutto la capacità di poter dar vita e carattere ad alimenti che tendenzialmente consideriamo meno nobili, ma che in realtà sono ricchi di nutrienti. Ho cercato di estrarre da ogni vegetale il proprio carattere in modo tale da poter dimostrare che in realtà possiamo ottenere un prodotto veramente essenziale utilizzando in realtà dei prodotti che tendenzialmente, come avevo detto prima, riteniamo meno nobili.